in pppppppppppppppp se facciano 10 minuti qua su youtube vi raccomando ragazzi che ho mentato via ragazzi siamo facebook tweet tik tok sempre con nome full timer pesca iscrivetevi al canale ciò speriamo di fare una bella catturina la vediamo ciao ragazzi buongiorno però questo non va tanto bene non va tanto bene torniamo alle lettere artificiali di prima le dai facciamo un pesce per youtube grazie del like non so chi tu sia bella buongiorno a tutti no albero dai su un cacchio un persicuso un po' di scasso grande alessandro non so se arrivi in ritardo perché perché non passiamo al 5g definizione praticamente da videogioco guimì 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 gu eh lo so infatti infatti è una brava pesca anche perché facebook non mi paga youtube mi paga poco non so perché si vede meglio a facebook oppure tutta la tecnologia è uguale ma misteri della fede ho visto due pesci di dimensioni non indifferenti però mi sa che erano delle carpe sembra strano che fossero dei predatori dai credo presi cussi dai forza non so neanche se se i follower vengono attivati attivati quando c'è una diretta facebook si attiva manda la conferma qui boh non so no no io qua non ne ho mai prese pesci cereali qualche basso e qualche luzzetta avanzato un paio di volta roba grossa ma non so che ferma sti i mici 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 pipi 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 eppure poi ne ho canzati di un litro fila quelli piccoli dovrebbero andare sempre in branco si si sono spaventati ma mi sembra strano timi mici 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 pipi pipi le sì sì diretta minuto otto punto trenta no mi è dato via porco sio no non ho agganciato bene ma piccolo ma vaffanzo porco cane no questo era piccolo eh non sa che non era più piccolo dell'artificiale se spaventato mi ne ho diamo non mi sottone mi si mi 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 Grazie a tutti.